Ragazzi questo posto è fantastico Ciao ragazzi benvenuti a questo nuovo video Oggi vi riporto a qualcosa che è successo qualche giorno fa Nel giorno in cui siamo andati in uno splendido negozio di animali qui dalle mie parti Il negozio è lo Zoo Mini Market di Casate Novo Non sapevamo molto bene che cosa poterci aspettare E quando siamo arrivati Beh, guardate voi stessi Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi questo posto è fantastico C'è di tutto In realtà poi guardando su internet Inizialmente avevo già capito che questo negozio sarebbe stato splendido E che aveva una quantità pazzesca di pesci fantastici Di baby tartarughe e di altre cose assolutamente bellissime Di conseguenza ho girato una marea di video e non vedo l'ora di tornare Ciao ragazzi a tutti Bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Io mi sono divertito tantissimo e mi piace un sacco cercare posti, negozi di animali Da potervi fare vedere e da poter condividere insieme a voi Grazie ragazzi per avermi seguito Vi ricordo che da settimana prossima, la prima settimana di settembre I nostri video tornano regolari con due video a settimana martedì e giovedì alle 15.15 Grazie a tutti per avermi seguito, iscrivetevi per un sacco di nuovi video Ripeto martedì e giovedì alle 15.15 e noi ci vediamo nei prossimi video Ripeto martedì e giovedì alle 15.15 e noi ci vediamo